Polmone del mondo, ma anche terra saccheggiata e pericolosamente minacciata. In Amazzonia si gioca una delle sfide chiave del nostro tempo, tutelare il pianeta per salvaguardare la vita umana. Bentornati e bentornati a Finisterre, storie oltre i confini. Oggi viene pubblicata l'esortazione apostolica che Papa Francesco ha definito una nuova Laudato Si e che rilancia l'urgenza di schierarsi, ha detto il Pontefice, al fianco delle vittime dell'ingiustizia ambientale e climatica. Proprio quello che nell'Amazzonia brasiliana fa ogni giorno il missionario del Pime Padre Sisto Magro, da 34 anni in Brasile e da 16 in prima linea accanto ai piccoli agricoltori minacciati dalle grandi aziende dell'agrobusiness. Un impegno intenso e non privo di pericoli, iniziato dalla condivisione delle necessità della gente. Dopo tanto lavorare in parrocchia, nelle comunità agricole, a un certo momento vedevo gente arrivare alla Messa magari facendo viaggi di due o tre ore di barca oppure a piedi e loro presentando durante la Messa anche dei problemi che non erano solo legati alla pastorale specifica, ordinaria, della catechesi, della liturgia. Erano problemi loro legati alla questione delle terre, del loro essere presenti nella terra. Per cui mi sono staccato dalla parrocchia e ho cominciato con l'autorizzazione dei superiori questo nuovo lavoro, vedendo chi erano queste persone, la loro realtà sociale, la loro realtà della terra di tutti i giorni. E mi sono appassionato, la nostra area di attuazione è tutto lo Stato della Mappà e più alcune comunità dello Stato del Parà che sono lì vicine e comunque fanno sempre parte della diocesi di Macapà. Per cui è come territorio, come mezza Italia praticamente. Siamo nel contesto dell'Amazzonia, polmone del mondo, scrigno di biodiversità e casa di centinaia di popoli diversi. 7,5 milioni di chilometri quadrati come tre quarti d'Europa. L'Amazzonia è estesa su nove paesi ed è una risorsa vitale per l'umanità. Le sue piante garantiscono una quota importante dell'ossigeno che tutti respiriamo. La grande foresta è l'ecosistema più ricco di biodiversità al mondo, ospita 60.000 tipi di piante e mille specie di uccelli. È anche la casa di oltre 400 popoli indigeni, ognuno con la sua cultura, i miti e la propria lingua. Vivono sulle sponde e lungo i rivoli del rio delle Amazzoni che attraversano la foresta. Da sempre crocevia di umanità. Accanto agli indios ci sono i caboclos, nati dall'incontro con etnie provenienti da altre parti del Brasile. Molti oggi sono i riberignos, comunità che abitano in palafitte di legno sul fiume e si dedicano alla pesca e all'agricoltura. I kilombolas invece sono discendenti degli schiavi africani portati a lavorare nelle piantagioni che vivono oggi in villaggi propri. Per salvaguardare la propria identità, un centinaio delle comunità amazzoniche ha scelto di isolarsi totalmente dall'esterno. Questa grande ricchezza naturale attira però anche sfruttatori senza scrupoli che mirano alle risorse locali spesso con la complicità della politica. L'Amapai è uno stato dell'Amazonia dove avvengono purtroppo molti conflitti di terra fra piccoli agricoltori e grandi impresari dell'agrobusiness, tanto multinazionali di varie nazioni come impresari locali dello stato dell'Amapai che sono più legati al sud del Brasile che vengono al nord per quali sono le attività, i minerali, l'oro, soprattutto il manganese, altri tipi di minerali dove l'Amapai è ricco, la foresta dove il legno è un legno nobile viene tirato e esportato nell'Europa oppure in America e i campi che sono adatti per la piantagione di soia in grande scala, 5-10 mila ettari di terra che vengono così piantati col favore dei politici locali perché loro sono legati appunto a questo tipo di sfruttamento della terra. Loro stessi appartengono a famiglie di sfruttatori di terra, di foreste o di minerali per cui i nostri agricoltori sono lì, hanno sempre rispettato la natura da tanto tempo, hanno sempre convissuto con la foresta e l'unora all'altra li cacciono via. È a questo punto che le famiglie e le comunità vittime di violazioni si rivolgono a Padre Sisto e ai suoi collaboratori. La gente viene, ci dice quello che sta succedendo, si va sul posto, si vede poi cosa di fatto sta avvenendo e lì comincia un lavoro di formazione anche di queste comunità. La legislazione fondiaria dello Stato dell'Amapai non la conoscono, devono sapere qualcosa anche su questo. Molte volte vanno alla giustizia e non sanno come comportarsi perché il giudice non l'ha mai visto in vita loro e qui è altro problema perché la nostra gente non ha i soldi per cui ci sono gli avvocati d'ufficio che devono occuparsene e gli avvocati d'ufficio molte volte non conoscono la legislazione fondiaria e neanche i giudici e questo è ancora più grave. Ultimamente la settimana scorsa mi è arrivata una comunicazione dalla parte della giustizia dicendo guarda la commissione pasta della terra è stata citata in questo processo dicendo che voi state appoggiando, voi e il pubblico ministero state appoggiando l'invasione dei piccoli contadini nelle terre dell'agrobusiness. A volte le pressioni non si limitano ai canali giudiziari. Basti pensare che l'anno scorso il 22% degli omicidi di attivisti in difesa dell'ambiente e dei popoli indigeni è avvenuto proprio in Amazzonia. Veniamo minacciati per essere persone che prendono le loro difese. Io e il mio compagno e il padre Denis ci sono venuti addosso con la macchina. Sono violenti e sono anche preparati a compiere delle violenze. Ci siamo salvati però poteva andarci anche peggio e questo qui non ha subito né processi né niente. L'abbiamo denunciato ma le cose sono rimaste così. Loro sanno benissimo che possono farci quello che vogliono anche le popolazioni locali, gli bruciano le case, gli bruciano le culture per cui l'era a Bolsonaro ci ha portato dei grossi squilibri. Già la cosa era brutta per i contadini, già la cosa era poco simpatica. Qua in Bolsonaro la cosa si è accentuata ancora di molto di più. Adesso speriamo che con il ritorno del Lula le cose possono migliorare. che però ci sono interessi in ballo per il nostro stesso governatore che adesso l'ex governatore che è il ministro, è uno dei ministri del Lula e uno dei più grandi faziendetri dello Stato della MAPA. La politica ha un ruolo fondamentale nella tutela della foresta e per avere successo è necessario unire le forze. Per questo tutti e nove i paesi su cui si estende l'Amazzonia hanno cominciato a coordinare i propri interventi. Individuare soluzioni condivise per contrastare la deforestazione, lo sfruttamento incontrollato delle risorse e la criminalità organizzata. Era ambizioso l'obiettivo dei paesi amazzonici riunitisi lo scorso agosto a Belem in Brasile. Nonostante il summit non abbia fissato impegni precisi, in questi mesi in Ecuador un referendum ha messo fuori legge l'estrazione del petrolio e della foresta. Mentre il Brasile, primo esportatore mondiale di carne bovina e soia sotto la presidenza di Lula, ha ridotto la deforestazione del 66% e sono state istituite anche nuove riserve indigene. Un segnale positivo dopo le proteste per la recente approvazione alla Camera della legge pro latifondisti che modificherebbe il sistema di delimitazione delle terre mettendo a rischio migliaia di comunità originarie e un ecosistema prezioso per tutti. La nostra lotta, ha detto il leader della Confederazione Indigena dell'Amazzonia Ecuadoriana, non è solo per i nostri popoli ma per tutto il mondo intero. Ma quello della difesa della terra è un tema che interpella con forza anche la fede. Diciamo che la sensibilità di Papa Francesco su questo è fondamentale. Lui sa benissimo che la difesa dell'ambiente vuol dire anche difesa della vita delle persone, e quindi difendere la vita che è il nostro compito primo di chiesa passa anche da questo, dalla difesa dell'ambiente. È chiaro che la dimensione spirituale è fondamentale in tutto questo. Per cui non è che noi facciamo una ONG, si occupa dell'ambiente perché gli piace la pianta, gli piace l'ambiente, è importante. Noi collaboriamo con le ONG, diciamo con il Greenpeace, con altri tipi di ONG. Però la passata della terra è qualcosa di diverso, non lo fa con lo spirito di mantenere solo la terra, ma è la questione della vita. Per cui la nostra spiritualità è proprio quella del Regno dei Cieli, cioè è la volontà del Padre che tutti quanti abbiano una vita e l'abbiano in pienezza. Sentiamo allora con Luca Cereda qualche consiglio per conoscere meglio i popoli che abitano in simbiosi con la grande foresta e le storie di chi lotta per difenderli, ma anche le sfide che riguardano tutti noi. È un film dal forte impegno civile, l'ultima frontiera del regista brasiliano Luis Bolognesi, premiato al Festival del Cinema di Berlino. Le intense immagini che alternano documentario e sequenze messe in scena descrivono lo stile di vita della tribù indigena degli Yanomami e gli sforzi per preservarlo. La serie TV Aruanas racconta la storia di tre attiviste impegnate a scoprire la verità dietro le operazioni di una compagnia mineraria che sta illegalmente cercando oro in un'area protetta della foresta. Creata da Estrella Renner e Marcos Nisti, la serie si ispira a fatti realmente accaduti. Nel libro Frontiera Amazzonia, le giornaliste Lucia Capuzzi e Stefania Falasca percorrono il Rio delle Amazzoni per raccontare i drammi sociali dietro la questione ecologica, dallo sfruttamento delle miniere di rame in Ecuador ai traffici di legname tra Colombia, Brasile e Peru, ma danno anche voce a chi resiste alle violazioni per preservare la bellezza della terra e la dignità delle persone. E proprio dalla necessità di superare la cultura dell'uso improprio delle risorse naturali, con le sue drammatiche conseguenze per le comunità, è al centro della nuova esortazione apostolica di Papa Francesco diffusa oggi. Il documento dal titolo Laudate Deum riprende e rilancia i temi dell'enciclica Laudato Si, pubblicata otto anni fa. Grazie Luca, grazie a voi che ci avete seguiti in questo viaggio nella suggestiva e minacciata Amazzonia. Io, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale YouTube del Centro Pime e a seguirci sul nuovo profilo Instagram di Finisterre per avere aggiornamenti sulle prossime puntate, ma anche notizie e curiosità, sempre oltre i confini. Arrivederci!